tromba siamo partiti per la prova speriamo di arrivarci si arriva si arriva tranquillo pure mi dovresti che non usci diamogli del gas pari ci si vede una violenza io sono abituato si che bene ormai ci vedo e a dove so via di me a fare tanta luce oh lo spettavo un pacchino del coso non ci vedo ci stiamo sotto l'inizio non ci vedo ehi la la ah ah ora si fa questo tempo basta mi sono da benzina e io e ci arrivo bingo ah mia cro ma l'altra la conosci anche te eh mia bestia penso che se questo tezzo riappa al volo alla curva da giù è dura eh a domani eh l'altra volta mi scappò pianta una fumata nel piantone mi fece male eh pronti partenza via mancava la telecona eh ah ah senti come va senti come va senti come va eh no la sera non va non va vai 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 cazzo tagli le secche per differenza le salmolli ah una rabbia da una città una rabbia ma perché no perché 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 la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone Giulio metti la prima il prossimo anno ci viene meglio è stato bello è stato bello mi fa baffumo mi ha te baffumo mi si rompe un pagnone si rompe un pagnone si rompa si rompa si rompa si rompa si rompa a costo di nette i 4 rotini vieni voi vieni 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 la prima cazzo arrivo al calmi in su eh cazzo eh eh no volevo girare poi ci ho ripensato perchè ci romano la via che è la metà della luna e di traverso in mezzo alla strada è come quando sopra la data si intraverso eh eeeh ho pa ho pa ho pa tutta la quanta la forzina eh no ti senti che musica a tempi del mai aranzo spirito eh più piccini facevano pompini eh ho visto un po' qui heheheh ce la faremo di quanto faccio? 100 105 ma lì c'è sta macchina peggio carico la cariola la parola eeeh la numero uno e noi andiamo anche senza il freno a mano io freno a mano non so io solo per fare l'immersione lì perchè fa queste aziende? marminta e tocca bene sistemiamola non mi scivola la gomma c'è scritta che sulle vette le istruzioni cose da non fare il cuore della guida e ti punto io eh questo non è normale ahahahah oh ti spiace nooo c'è gente che nasce prematura ma chi è nato senza il cervello? vi voglio la fossa cosa? lascia aperto lascia aperto GAME OVER ok grazie Grazie a tutti